Buongiorno, sono Marco Astore di BG-Log e oggi vi do il benvenuto alla terza ed ultima giornata di A&T. Oggi vi vorrei parlare degli otto principi di BG-Log, partendo dal primo, più che un semplice fornitore. Siamo infatti in grado di seguire i nostri clienti dal primo sopralluogo fino alla consegna della soluzione custom-made, sulla base delle specifiche necessità di intralogistica. Be clever, si intelligente, cambia prospettiva ed approcciati ad un nuovo modello di industria. Infatti la Lean Manufacturing è in grado di ridurre gli sprechi e migliorare i processi produttivi. Work better, lavora meglio in sicurezza ed in ergonomia, grazie alle nostre postazioni di lavoro, carrelli e sistemi a gravità. Team vincente, BG-Log infatti costituita da un team eterogeneo, con persone con esperienza, in grado di guidare sotto il profilo tecnico e commerciale BG-Log e persone giovani e dinamiche che portano innovazione in azienda, che seguono la parte di progettazione delle soluzioni. Produzione, quindi BG-Log dal 2022 è diventata produttore di profili tubolari in acciaio rivestiti in ABS, completamente made in Italy, grazie ad una linea completamente automatica nello stabilimento di Avigliano. Innovazione, qui abbiamo portato per la prima volta in fiera un esempio di innovazione, la nostra soluzione AMR, in grado di trasportare fino a 1500 kg in totale autonomia. Modularità, è uno degli otto principi di BG-Log, infatti ogni soluzione è realizzata infatti appunto sulle specifiche necessità del cliente, della movimentazione dei materiali, sulla base delle esigenze degli operatori e di layout del sito produttivo. E infine sicurezza, sicurezza e ergonomia sono due priorità per BG-Log, ogni soluzione è in grado quindi di ridurre gli infortuni sul posto di lavoro. Quindi se vuoi saperne di più sulla nostra realtà, visita il nostro sito www.bglog.it BG-Log, Lean Manufacturing Solutions.